Questo è il mio ultimo video del 2019 Ora purtroppo non ho più la marionetta squalo perché ora sto a casa di mio padre e qua non c'è la marionetta squalo e mi si è appena acceso il computer Quindi ci faremo salutare da Zuma Che non è il mio cane Zuma! Ciao! Vuoi fare una dedica ai nostri iscritti? Ma chi prende in giro? Sto parlando ad un cane E mi si è acceso il computer